Pochi giorni al debutto, Lorenzo e Iarciaplatte tornano a far divertire il pubblico con una nuova commedia in dialetto fanese. Esatto, Iarciaplatte è un gruppo di bellocchi che per il terzo anno, non consecutivo, ma per la terza volta, si ripresenta al pubblico di bellocchi con una nuova commedia. La nuova commedia si ambienta in un luogo un po' particolare, che è la sala d'attesa del medico di famiglia, il doutor, dove più o meno tutti ci siamo capitati almeno una volta. E facendo una cosa che tutti fanno indistintamente, ponendo una domanda, come si entra nella sala d'attesa, si dice chi è l'ultimo? E questo è il titolo della commedia. Uno potrebbe pensare, ma come una commedia per ridere nella sala d'attesa di un dottore, è una cosa che sembra stridere un pochino. Invece, essendo un pubblico non omogeneo, si vengono a creare delle dinamiche tra le varie persone, perché c'è chi apprescia, c'è chi fa male una cosa, c'è chi guarda l'amica perché è più bella. E quindi vengono fuori, si innestano dei meccanismi, delle discussioni simpatiche, comiche. E quindi noi abbiamo trovato questo testo che è di Gabriele Morbidi, quindi anche qui abbiamo fatto una magia, cioè a Fano presentiamo una commedia in dialetto pesarese, però tradotta logicamente in fanese, se no noi altri non capimmo niente. Quando andrete in scena? Noi andremo in scena dal 5, il 6 e il 7 di maggio, alle ore 21 e 15, nella sala Don Milani, che è la vecchiesa di Bellocchi, che è davanti alla nuova chiesa di Bellocchi. L'ingresso è a offerta. Alessandro, come e quando è nato il gruppo? Allora, il gruppo è nato nel 2019 ed è nato un pochettino per scherzo perché è nato nell'ambito parrocchiale. Con Stefano Montanari, che diciamo ci aveva presentato allora una commedia che lui aveva scritto, quindi un musical, anzi non una commedia, ci siamo detti facciamo qualcosa con i giovani, io insomma essendo molto giovane, ci siamo detti facciamo qualcosa per i giovani che non sia solo e esclusivamente all'interno della parrocchia inteso come luogo. Ed è venuto fuori questo gruppo che non è molto etereogeneo perché andiamo dai 16 ai 45 anni di Lorenzo, insomma che avete visto, quindi siamo abbastanza variegati. Il nome Arciaplatte di per sé nasce proprio per questo perché non eravamo tutti amici però lo siamo diventati perché poi dopo stando insieme si diventa una famiglia e Arciaplatte perché il nome evoca un po' la varietà dei gusti, la varietà dell'età, questo è il gruppo. Quando partirà la prevendita? Allora la prevendita parte mercoledì 3 maggio e saremo nei locali della sala Don Milani quindi di fianco all'Acri davanti alla chiesa e da lì saremo tutti i giorni pronti a vendervi i biglietti, anzi vi aspettiamo, vi aspettiamo numerosi e con la possibilità di fare tante lepriche e ricordatevi che chi è l'ultimo?